8 posti letto, istanze di degenza ristrutturate secondo una logica di umanizzazione delle cure, puntando su strutture confortevoli e gradevoli, anche dal punto di vista estetico. E ancora la palestra, ambulatori dedicati di laser terapia, tecar terapia e ultrasuoni. È stato rinnovato il reparto per il recupero e riabilitazione funzionale all'interno del presidio ospedaliero Sor Cecilia Besarocco di Niscemi, afferente all'aspo di Caltanissetta. Le novità riguardano anche il personale, con nuovi reclutamenti, assunti infatti fisiatri e fisioterapisti. Una realtà quella creata al Sor Cecilia Besarocco di Niscemi, sottolinea il direttore generale dell'aspo di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, che completa con un altro tassello fondamentale l'allestimento del presidio ospedaliero. È l'esempio di una struttura in grado di assicurare quella medicina di continuità che trova spazio su aree più delocalizzate, ma che fa la differenza nel trattamento di patologie croniche da gestire e monitorare nel tempo. Una buona notizia per l'intera cittadinanza. Un traguardo raggiunto grazie anche ad un lavoro sinergico tra comune e azienda sanitaria provinciale, così come viene sottolineato anche dall'amministrazione comunale di Niscemi.